L'Unione Italiana Cecchi e Povidenti di Pesaro Urbino si prende cura quotidianamente delle persone con disabilità visiva. Negli anni, grazie ad un gruppo di professionisti e alla nostra esperienza sul campo, abbiamo lavorato per favorire la strada verso una vita vissuta in autonomia, favorito l'accesso alla cultura e alla formazione abbattendo le barriere sensoriali e sociali, fornito corsi di formazione lungo tutto il percorso scolastico universitario, dato un supporto nel processo di ricerca e avviamento al lavoro. Per tutto questo qualcuno ci definisce eroi, persone dotate di speranza, empatia, ottimismo e resilienza. Da questa idea nasce il nostro nuovo progetto di raccolta fondi, Hero, non servono i superpoteri per essere eroi. Tutti in un momento della vita possiamo avere bisogno di un eroe, che sia anche solo semplicemente una mano tesa e a volte diventiamo noi l'eroe di qualcuno. Sostieni e condividi Hero per entrare a far parte della nostra squadra di eroi. Acquistando le magliette che abbiamo realizzato indosserai anche tu i valori di Hero e darai il tuo personale contributo al nostro percorso di autonomia. Se vuoi saperne di più ti aspettiamo sulle nostre pagine social.